Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con un nuovo video e oggi andiamo a giocare con Ritty Swag e GX Rikki che è Nonoleon in un altro account Vi alzo un po' il volume Forse è troppo, non lo so Va bene, lo lascio Sono fastidioso l'ora da lontano Perfetto, ho ucciso Bo Perfetto, ho ucciso Perfetto, ho ucciso Ho ucciso Perfetto, ho ucciso Perfetto, ho ucciso Perfetto, ho ucciso Lo skip un attimo Eccoci ragazzi, siamo su Footbrowl Perfetto, ho ucciso Perfetto, ho ucciso E GX Rikki Niente male Bravi 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 Vediamo un po' fastidio Perfetto Perfetto, ho ucciso Perfetto, ho ucciso Perfetto, ho ucciso Perfetto Perfetto, ho ucciso Perfetto 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 Perfetto, ho ucciso Perfetto 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 What Ragazzi What Do No, non si spawno io Rikiswag Si è ancora vivo Cioè È già rispawnato No ragazzi Finito Anche la ultima volta ragazzi Mi dispiace Per questo video è tutto E ciao